Ma cosa fatti? Lo skateboard E perchè è rovinato qua? Non si può Ma avete rovinato voi questo? E' sporco, non è rovinato Non si può qui dentro Non si può quando i negozi sono aperti Ma perché fai il computer della camera? Filmo lui che fa lo skate Perchè ha perduto? Così poi facciamo un video e andiamo al cinema Ciao Hey Joe Where are you going? I'm going to head One, two, four Yo Hey Joe I'm saying where you're going We never go in your hand We never go in your hand We never go in your hand I'm going down to Owen I'm barren I'm going to head I'm going to head A farm Sì! Grazie a tutti 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 Piccolo Grazie a tutti